NO TANQUILO a me non mi serve Sono quei 4 sono contro 2 Era perfetto era lì ciao e mori cavolo porca miseria copri di dietro ci copri di dio non potevo fare niente zero materiali no way bro 1 e 1 hit morto oh mio dio come l'ho traccato che c***o io ho fatto questo wait what are you kidding me oh my god how bro dude are you kidding me that's so whack how did it not spit him out i pumped him too early i guess what 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 it's f*****g f*****g dude it's hit fires and lasers meet on the 1 hp bro it's so f*****g AIDS man and i face this f*****g venni venni eccolo oh bello raga mi è cresciato fortnite no proprio adesso scusa amici stavo rompendo per farla scendeggi grazie no raga mi è cresciato fortnite eh l'ho sentito Matteo sta facendo il panico raga no c***o non ci ho più materiali venite fuori tutti con le madri in alto stiamo circondando la zona ci ha obbligato a sparare cerchiamo di neutralizzare il soggetto ci sembra molto cattivo p*****g no no Ma ho fatto questo, raga? No, è scelta Avete cure? Avete cure tipo un medikit? Guarda, ora non... It's not the right time Oh my god, aim by the shift No, mi ha trollato, mi ha trollato, mi ha trollato, mi ha scammato Mi hai scammato totalmente No, no, no Ma me... Dai, ma mi ha scammato... No, ragazzi Bravo, complimenti Eh... Imagine... He's dead if I'm on controller Bro... No... oh 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 Come? Lui l'aveva ucciso? Come ha fatto? C'era il muro Ma cosa sta succedendo? Ma lo spero Ma era dietro il muro a sinistra lui Come è possibile che mi ha ucciso? Non ho capito cos'è Cacca Oh my god bro Are you f***ing serious? Like are you f***ing kidding me bro? It's a f***ing joke man Oh my f***ing Like are you f***ing serious dude? This game is ass bro Aperto l'airdrop Non so dove era E' qua E' qua No shield power Hello Ma l'hai visto ciccio che l'ho guardato? L'ho visto l'ho visto No ti prego No ti prego No ti prego No ti prego Arrivo pronto Arrivo a centri dalla polamica Comunque Arrivo brutal Italiana Oh no Oh no 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 Vabbè ragazzi Così no però Due team ragazzi Due team Due cacca Non ho neanche colpi pompa Solo Non ti prego Non ti prego Non ti prego Non ti prego No Non ti prego 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 come è che sia fair? come è che questo è un formato che si è così male questo è un po' di più questo è un po' di più questo è un po' di più perchè è cooke cooke Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti